15.000 euro è il trionfo della solidarietà. Non c'è crisi che tenga, batte forte il cuore di Reggio e al diavolo il freddo pungente non riesce a rovinare. Un pomeriggio a colori, pieno di sorrisi e di gol, tanti gol. Quando il calcio serve a lanciare messaggi positivi, concreti come concreti, sono i 15.000 euro raccolti e poi destinati al consultorio familiare di Reggio Calabria. Ecco il regalo dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose che in collaborazione con l'Arcidiocesi di Reggio e il Centro Sportivo Italiano ha messo su un evento unico, capace di trascinare al Centro Sportivo Ciccio Cozza oltre 2.000 spettatori. Tutti lì per vedere da vicino i personaggi di Striscia la Notizia e Colorado, ovvero Moreno Morello, Capitano Ventosa, i Turbolenti, i Pampers, protagonisti di una partita in famiglia, torneo benefico che avvissò la partecipazione anche di Alma Manera, madrina d'eccezione. A sfidarsi, quattro squadre, la Selesau dei Sacerdoti Reggini, la Squadra dei Medici, la Nazionale delle Famiglie Numerose e la Squadra del Sorriso, capitanata da un vecchio campione, Maurizio Gans. Fa un certo effetto vederti con la maglia della regina addosso. Beh, ne ho, nella mia carriera ne ho avute 13, questa è la quattordicesima, sono orgoglioso di indossarla e spero anche poi di fare bella figura. Uno spettacolo come sempre. Sì, uno spettacolo che purtroppo è iniziato stamattina, nel nome in un quarto ho ricevuto la telefonata della morte del nostro caro Don Latella e quindi un po' siamo rimasti, ma queste cose fanno parte anche della vita e quindi noi siamo contenti di essere qui anche per pregare per lui, lui sa che voleva questa manifestazione, quindi noi siamo molto contenti. Ma a prescindere questo fatto qua che ha toccato tutti quanti, tutte le squadre, sono molto contento veramente di questa terza edizione, di una partita in famiglia. Tornare alla mia città è sempre un grande piacere, una grande emozione vedere tutto questo pubblico, tutta questa gente veramente che è sempre disponibile, sensibile e formiamo veramente una bellissima città. Più dura del previsto la partita con i sacerdoti. Sì, devo dire che forse le condizioni climatiche sono un po' sfavorevoli per noi perché non pensavamo di trovare così caldo, a differenza invece di chi abita qua che dice che fa freddo, invece per noi fa caldo, quindi siamo trovati un pochettino in questo scompenso climatico che non ci aspettavamo. Una bella serata con tanta gente, un bel messaggio quello che parte stasera da Reggio Calabria. Sì, soprattutto per sensibilizzare tutti quanti verso realtà che magari sono sconosciute ai più, quindi io stesso non pensavo ci fosse un'associazione che potesse interessarsi alle famiglie numerose e come me tanti altri che sono qui oggi non lo sapevano ed è giusto che vengano a conoscenza e a sostenere queste associazioni. Innanzitutto complimenti, grande tecnica, la regina avrebbe bisogno di un giocatore di qualità in questo momento, perché non si propone? Magari avrebbe bisogno di un supereroe, no dai, ci stiamo divertendo, ci mancherebbe tutto rispetto alla regina. Insomma noi siamo fortunati perché facciamo un lavoro che ci permette magari di aiutare con una semplice partita di calcio persone che ne hanno veramente bisogno, per cui io lo dico sempre siamo molto fortunati. E' bello essere qui, ci sono quattro squadre, oh ma i sacerdoti vanno eh, c'erano due o tre sacerdoti che andavano a 200 all'ora, incredibile, bellissimo, bellissimo, proprio contento. Ti aspettavi di trovare così tanto freddo in riva allo stretto? No, no, abbiamo portato il costume e le ciabatte da mare, perché su al nord ci dicono sempre viene a sud, si sta bene, fa caldo, invece ci saranno otto gradi? Sono in campo perché la squadra non mi vuole. Non è vero? Smentisco. No, la squadra non mi vuole, allora per questo... Non è vero? E' vero, è vero, è vero. No, purtroppo la mia squadra, la mia società non vuole che gioco amichevoli così. Alla Snyder, alla Snyder. Alla Snyder. Buoh, salutiamo tutti, Scintilla dei Turbolenti e il Cialtrone dei Pampers. Ciao. Ma io sono appena uscito, ho fatto anche due gol, non so se la camera mi ha visto, ho fatto due gol di impregio molto fine. E' finita, abbiamo vinto anche la partita, 3 a 2, sì!